Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cavallart Per il momento sto registrando così come è ora Cioè, nel senso, così Perché non mi sono scritta un copione, non mi sono scritta nulla Non ho intenzione di farlo perché sono sempre molto spontanea con voi Allora, perché siamo mancate dal canale per così tanto tempo? Sono successe tante cose in questi mesi E infatti sono qui per raccontarvele Cioè, non nel dettaglio, ma comunque l'essenziale Il 3 luglio del 2021, cioè quest'anno Quindi due mesi fa abbiamo cambiato maneggio Le motivazioni le ho, possiamo dire, già dette Semplicemente perché lì non sentivo più un ambiente di casa Non sentivo più un buon ambiente Non mi sentivo più parte di quel luogo L'unica cosa che cercavo inizialmente in questo nuovo maneggio Era ritrovare la serenità Cosa che adesso ho ritrovato E soprattutto sto cercando di farmi un po' avanti E crescere comunque in questo sport Che è tutta la mia vita Una cosa che sicuramente Come avevo già detto nel video precedente Di 3 o 4 mesi fa Avevo detto che avevo avuto un blocco Nei monthly vlog Ed era vero Perché c'era proprio una situazione talmente Che non sto neanche a dirla Che mi bloccava Non riuscivo più a fare I video in monthly vlog Perché dovevo fare un qualcosa Che alla fine lo facevo con poca motivazione E quindi mi sono anche fermata Non avevo proprio più Se vi state chiedendo Se in questo orco di tempo A parte aver continuato a montare A aver cambiato il maneggio Ho fatto gare No, non ne ho fatte Mi sono fermata dall'ultima che ho postato Quella di novembre 2020 E ammetto che anche quello purtroppo Mi ha demotivato molto Adesso non sto qui a elencarvi i motivi Ma avevo perso comunque La motivazione Era terribile Di conseguenza avevo anche perso la motivazione Di fare video Portare a portare video Qui sul canale E mi è dispiaciuto tantissimo Cioè perché cavolo C'è un sacco di gente Che comunque mi chiede i video E i monthly vlog E quello e quell'altro E a me viene un nodo Un nodo Non lo so Però da quando comunque Ho cambiato Ho ripreso la più totale voglia Di riprendere in gara È una delle cose Che desidero di più Non avete idea Cioè è una cosa stranissima Adesso non starò qua a spiegare Però Beh Cos'altro potrei dire Se vi state chiedendo Se pubblicherò i monthly vlog Di questi mesi Allora Io mi sono ferma Da gennaio 2021 Con i monthly vlog Dovevo quasi finito Quello di Febbraio Sì Cioè Quelli che in teoria Dovrei pubblicare Del vecchio maneggio Sono da febbraio A giugno E poi quelli di luglio Agosto E settembre Del nuovo maneggio Però ovviamente Non so cosa fare Perché avevo più l'idea Di ricominciare Con Quelli Del nuovo maneggio Oppure se volete Posso mettere Anche proprio Giusto Il succo Del succo Del succo Di quei Quattro mesi Prima che io cambiassi Decidete voi Non mi cambia Anche perché Magari vedete Sempre cambiamenti Perché in realtà L'intento di MontriVlog È vedere i miei cambiamenti I miei progressi E condividerli con voi Che magari Voi potete notare Delle cose Che magari io non ho noto Oppure potete Vi può aiutare Magari un mio Magari un mio commento personale Su un mio video personale Quindi Se volete Io posso anche metterli Senza alcun problema Poi di conseguenza Il video Di Del nuovo maneggio Comunque Se avete altre domande Cioè Intanto Vi chiediamo scusa Per l'assenza Scusateci tanto Che altro potete dirvi Se volete sapere qualcosa In più Fatevi sempre domande Nei commenti Oppure Chiedete cosa vorreste vedere Cose un po' classiche Che dicono Youtubers Ok Come se qualcuno Ancora Starà qui a chiedere Il maneggio dei poni C'è Un progetto Forse Che sto cercando Contatemi qualcosa Nei commenti Quello che volete Qualcosa Ricreiamo un po' Di Vivacità Sotto i commenti Come volete Basta che non ci siano risse Ok Dopo questa Vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao